192 nuovi casi di covid in Abruzzo. È quanto emerge dall'analisi di 4.609 tamponi molecolari per un tasso di positività poco superiore al 4%. Il più giovane tra i contagiati ha 9 mesi e il più anziano 91 anni. Il record di nuovi casi oggi nel Chietino ne sono 71. Seguono l'Aquilano con 51 casi, il Terramano con 38 casi e il Pescarese con 29 casi. Uno dei contagiati invece proviene da fuori regione. 395 guariti delle ultime ore, ma il bilancio delle persone decedute registra due nuovi casi e sale a 2.422. Secondo i dati delle aziende sanitarie, sono 8.161 positivi accertati in Abruzzo, 205 in meno rispetto a ieri. Di questi, 335 pazienti, 14 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale e in area medica. Torna a salire però il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Ne sono 4 in più rispetto a ieri per un totale di 30 posti letto occupati. Gli altri 7.796 positivi accertati, 195 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL.